È successo tutto in pochi minuti nei preliminari di Conference League tra gli ungheresi del Fervar contro la squadra azerbaigiana del Gabala. Al minuto 33 cala il gelo allo stadio dopo uno scontro di gioco che ha visto il King Kirtimov, giocatore del Gabala, avere la peggio. Il centrocampista finisce a terra dopo una sorta di gomitata al capo subita con violenza involontariamente dal suo avversario. Il giocatore è dolorante a terra e l'arbitro ferma immediatamente il gioco. I compagni di squadra provano ad accertarsi delle sue condizioni, giusto il tempo di capire che la situazione da lì a poco sarebbe precipitata. Kirtimov perde i sensi e resta riverso a terra. Providenziale è dunque l'intervento tempestivo del capitano Asif Mamadov che interviene aprendo la mascella del compagno di squadra. La sua manovra, anche a seguito dell'intervento dei sanitari, si rivela decisiva per salvare la vita al giocatore, uscito poi in barella. Le telecamere distolgono subito l'inquadratura da quella scena lasciando la ripresa da lontano per rispetto del giocatore che in quel momento stava lottando tra la vita e la morte. Grazie.